Ci vuole raccontare il calvario di chi deve raggiungere Roma da Linate? Come funziona? Innanzitutto è incredibile che un aeroporto come Malpensa, con 23 milioni di passeggeri, non abbia un volo diretto verso la capitale. Questo naturalmente ha tutto discapito dell'economia locale, oltre che della facoltà di un viaggio più semplice per chi va a Roma. Solitamente in un'ora e un quarto si arriva a Linate, però se tutto va bene, se non ci sono intoppi, se non ci sono code, se non ci sono lavori in corso, se non ci sono incidenti, per cui per stare tranquillo per prendere l'aereo delle 7.30 devi partire tardi tardi alle 4.45. Ecco, la sua è una denuncia di una situazione ma che sottende anche un appello in qualche modo. Senza dubbio, dovrebbero interessarsi le autorità locali, le associazioni, i sindaci, anche perché il tema ha una valenza anche economica per la nostra provincia.